Non usa mezzi termini Mario Dell'Anno, il presidente dell'Associazione per la Storia con un post su Facebook ha minacciato di strappare il logo dalle maglie dell'Avellino qualora la società non si convincesse a venderla entro la fine di quest'anno. La provocazione che suona più come un avviso è arrivata all'indomani delle inchieste che coinvolgerebbero indirettamente la proprietà bianco-verde e che gioco forza mettono a dura prova la tenuta del sodalizio. Se l'Associazione per la Storia non è d'accordo mi dimetto da presidente, questa la chiosa finale che sancisce la perentorietà dell'affermazione. In pochissimo tempo sono stati centinaia i like e le condivisioni al post che ha ottenuto una valanga di commenti tra chi in voglia dell'anno a ritirare da subito il logo storico, a chi addirittura propone di scendere in piazza per protestare contro la proprietà. Ieri intanto è apparso uno striscione fortemente polemico davanti allo stadio Partenio Lombardi recante la scritta De Cesare Mauriello Di Somma Capuano dell'Avellino Calcio State Lontano. La spaccatura è totale, chi si aspettava una contestazione in stile classico con i tifosi davanti alla porta Carraia al momento non è stato accontentato ma non è detto che nelle prossime ore non possa accadere anche questo. Il tifo è stanco, la proprietà silente, un connubio esplosivo che potrebbe deflagrare con conseguenze devastanti.